Oltre a quanto precedentemente esposto, il rilascio del carneate è subordinato. Alla presentazione della polizia assicurativa da richiedersi a una delle seguenti agenzie generali tagli SPA di Torino o provincia. Agenzia Torino Centro, Agenzia Torino Mirafiori, Agenzia Torino Giulio Cesare, oppure a una delle agenzie decentrate di Ciriè, Ivrea, Moncalieri, Pinerolo. Per conoscere gli indirizzi delle rispettive agenzie, entrare nel sito camerale alla pagina www.to.cancom.it. In alternativa alla presentazione della polizia e solo se si rientra nelle condizioni previste, si può beneficiare del sistema assicurativo automatico, mediante presentazione della ricevuta di bonifico bancario che attesti il pagamento del premio dovuto a favore di una delle seguenti agenzie generali tagli SPA in Torino. Agenzia Torino Centro, Agenzia Torino Mirafiori, Agenzia Torino Giulio Cesare. Per i riferimenti delle rispettive coordinate bancarie, entrare nel sito camerale www.to.cancom.it slash carneata. Si deve richiedere il rilascio della polizia assicurativa direttamente all'Agenzia Generale Italia SPA se il valore del carnet supera i 75.000 euro. Se il valore cumulativo dei carnet emessi nell'anno solare supera i 75.000 euro. Se siete un privato o un ente non soggetto ad iscrizione alla Camera di Commercio. Se la vostra ditta è plurilocalizzata, ha cioè unità locali anche in altre province con iscrizioni presso più Camere di Commercio. Se trattasi di merci orfe. Sempre nella pagina modulistica estero, nella sezione carneata, aprite il modulo di richiesta polizza merci varie o il modulo di richiesta polizza merci orfe a seconda della tipologia di merce. Compilate il modulo indicando la data di richiesta. Indicate l'Agenzia scelta per il rilascio della polizza. Inserite il nome dell'impresa, la relativa sede, il codice fiscale, il valore del carnet, barrare la casella relativa alla causale per la quale si richiede la polizza. Il modulo va fatto firmare al legale rappresentante. Il modulo così compilato e firmato va presentato prima ai nostri sportelli o anticipato via mail o via fax, salvo poi successiva presentazione dell'originale, per un nostro visto di approvazione e poi va consegnato all'Agenzia scelta unitamente ai documenti da loro richiesti. L'Agenzia generale Italia S.P.A. entro qualche giorno vi consegnerà la polizza assicurativa dietro al pagamento del premio dovuto. Si può accedere alla procedura assicurativa automatica con bonifico bancario se il valore delle merci del carnet non supera i 75.000 euro, se il valore cumulativo dei carnet emessi nell'anno solare non supera i 75.000 euro, se siete una ditta iscritta alla Camera di Commercio di Torino e non plurilocalizzata, con sede e eventuali unità locali solo in Torino e provincia, se non si tratta di merci orte. In questo caso, il calcolo del premio da pagare si effettua moltiplicando il valore totale della merce del carnet per 0,5625%, tenendo presente che per merci di valore inferiore a 10.000 euro il versamento minimo dovuto è di 56,25 euro. Riepilogando, i documenti da presentare allo sportello per ottenere il rilascio del carneata sono il modulo di domanda carneata in tre copie firmate in originale dal legale rappresentante, la polizza assicurativa rilasciata dall'Agenzia Generale Italia S.P.A. oppure, in alternativa, la ricevuta del bonifico bancario effettuato. Il costo del carneata modello base è di 50 euro più IVA, mentre il costo del carneata modello con dotazione superiore è di 76 euro più IVA. L'importo è pagabile ai nostri sportelli in contanti con Bancomat o carta di credito.